Buongiorno ragazzi, è un nuovo video di Mr. McIntosh e oggi vedremo il download gratuito di Battle Supremacy, un gioco con una grafica sorprendente, bello, che in questi ultimi giorni ha scalato letteralmente le classifiche di Mac App Store. Per chi non lo conoscesse apriamo il link di App Store e vediamo un po' che ci dice di bello. Innanzitutto vediamo il prezzo di 4,50€ circa e che è un gioco da 12 anni in su, quindi può essere anche intenso e realistico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.